Una delegazione composta da alunni e docenti dell'Istituto Fermi Mattei di Sernia ha visitato il Parlamento Europeo e l'Eurocorps di Strasburgo. Il viaggio è stato organizzato in occasione dell'incontro in Germania, nell'ambito del progetto Erasmus+, Integration of New Technologies into Classroom. Il gruppo, insieme ad altri studenti provenienti da Germania, Estonia, Turchia e Grecia, è stato accolto dagli europarlamentari delle rispettive nazioni. Ai partecipanti è stata spiegata l'importanza di far parte dell'Europa Unita, nonché l'organizzazione e le funzioni del Parlamento Europeo. Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Bruno Caccioppoli per l'opportunità, ha sottolineato, che è stata data agli studenti di vivere questa esperienza significativa che rafforzerà in loro la consapevolezza di essere cittadini europei. L'evento assume un aspetto di particolare rilievo, considerate le prossime elezioni di maggio, per il rinnovo del Parlamento Europeo. Il Fermi Mattei ha ancora sottolineato il Preside, attualmente coinvolto in tre progetti Erasmus, che nel corso degli anni hanno contribuito e contribuiranno alla crescita dei ragazzi, che hanno avuto l'opportunità di vivere esperienze multiculturali, altamente formative. Grazie.